Go! Marche! Norton riuscì da solo ad attaccare e a sfondare le difese della linea gotica che stavano colpendo e spazzando via il suo battaglione. Qui parliamo di storia locale, le nostre tradizioni, le nostre origini, la nostra cultura. La liberazione di Montiridolfo per noi è una data molto sentita e la vogliamo condividere con tutti. Quindi è sicuramente una festa ma è anche un momento di ricordo perché certi fatti non vanno dimenticati e non bisogna nemmeno vergognarsene oltretutto. Quindi per noi è un evento molto importante e lo festeggiamo a modo nostro. Grande supporto e organizzazione anche della Proloco locale. Assolutamente, non si fa niente senza la Proloco, come le piccole realtà anche qua nei dintorni, la cittadinanza attiva perché effettivamente le Proloco sono cittadinanza attiva, sono fondamentali per queste rievocazioni che sono molto costose e senza il volontariato non sono sostenibili. Il piccolo borgo situato fra due valli, quella del Conca sul versante romagnolo e quella del Foglia sul versante marchigiano, ha fatto fare ai presenti un tuffo nel passato, con mestieri e foto d'epoca. Una trebbiatrice degli anni 40, lunga 20 metri, accampamenti e un carro armato in azione, un semovente sexton britannico acceso e messo in moto lungo la via. Suggestive sono state anche le battaglie messe in scena dall'associazione dei Greenliners che ha fatto rivivere al pubblico quei momenti storici rimasti impressi nella mente di tanti avvenuti nell'estate del 1944. Il lavoro di ricerca è grazie al comitato storico scientifico qui del Museo della Linea dei Goti. Loro hanno avuto fiducia in noi ormai da otto anni, nove anni e noi ormai siamo quelli che rappresentiamo in regione ma anche fuori, nelle zone limitrofe, la linea gotica, il fronte che è stato nell'agosto del 1944 e poi nel settembre del 1944 nella Romagna fino a Rimini. Quindi gioco forza che siamo conosciuti per questi eventi e ci impegniamo chiaramente seguendo anche indicazioni di studi altrui. Quest'anno ho proposto con successo una rivisitazione della narrazione in chiave più cinematografica oppure per gli appassionati dei vecchi fumetti di guerra un po' più fumettistica per intenderci. Spero che sia una cosa nuova che piaccia al pubblico.